La questione io credo vada, come dire, pensata sul lungo periodo. Questa contrapposizione che viene continuamente a galla tra lavoro e salute non è ovviamente solo di oggi, perlomeno risale a diversi decenni fa ed era già stata messa in luce appunto anche durante il lungo conflitto operaio in Italia dalla fine degli anni 60 fino alla fine degli anni 70 ed è il tentativo in qualche modo di contrastare l'idea del produttivismo a tutti i costi che venga da parte di un sindacato che venga da parte appunto dei datori di lavoro ed è l'idea di rifiutare appunto che sia possibile lavorare in determinate condizioni che sono, come dire, che hanno ripercussioni molto profonde sulla vita sia dei lavoratori sia dei cittadini dell'area circostante o più lontano. Cioè è abbastanza noto che, ad esempio, molte mogli dei lavoratori che lavoravano in situazioni in cui c'era l'amiato poi si sono anche ammalate di cancro. Quindi questa questione io credo debba essere pensata come una progressiva crescita di consapevolezza da parte sia degli operai sia dei cittadini di Tarento in una situazione difficilissima. È chiaro che non ci sono uscite facili, come dire, progetti facili da portare avanti, ma dobbiamo considerare che questa richiesta in qualche modo di riuscire a lavorare e a produrre, a ottenere degli stipendi, dei salari in una condizione di sicurezza per tutta la popolazione è anche un tentativo, come dire, di contrastare i processi migratori. Proviamo a pensare appunto in meridione oggi, ma anche in larga parte ai settentrioni, in cui i processi emigratori, cioè gli italiani che vanno all'estero, sono ormai piuttosto diffusi. È chiaro che la chiusura completa di uno stabilimento del genere porterebbe a nuova emigrazione, ma allo stesso tempo sia operai sia cittadini di Tarento ci stanno dicendo che in quelle condizioni non è possibile continuare a produrre. Io credo che tenere insieme, provare a tenere insieme la questione appunto della produzione di beni e della riproduzione ambientale della specie animale oggi sia sempre più fondamentale perché lo vediamo appunto nella questione di quanto inquinano ad esempio gli allevamenti di animali e di quanto appunto questi animali siano costretti a determinate produzioni e quindi ad essere allevati molto in fretta, ma anche appunto di come determinati lavoratori siano costretti ad operare in condizioni assolutamente insalubri. Quindi io credo che Tarento oggi rappresenti l'emblema in qualche modo di una trasformazione che in altri paesi in parte è avvenuta, in parte sta avvenendo e che debba essere presa come un esempio appunto da seguire. Io credo che sia estremamente difficile uscire da questa situazione per diverse vicende, chiamiamole tecniche che hanno portato a questo, ma sicuramente occorre considerare appunto che oggi non è più pensabile lavorare in determinate condizioni che portano appunto a malattie gli operai e anche i cittadini. C'era un articolo giusto domenica appunto sul Sole 24 Ore su come è stata riconvertita un'area della Rur con quindi il tentativo di avviare processi sia di bonifica e quindi che immagino anche nel caso di Tarento debbano essere imponenti e che hanno trasformato un'area assolutamente degradata e inquinata in grandi parchi naturali con appunto l'avvio di attività nel turismo. Ovviamente abbiamo casi anche in Italia, se pensiamo a Bagnoli, di tentativi in tal senso che mi pare che per varie vicende non siano andati a buon fine, ma abbiamo se vogliamo un caso molto più vicino a noi che è quello di Porto Marghera in cui l'area è largamente stata non bonificata al momento e non osiamo immaginare appunto i costi e chi appunto sostenga queste operazioni. Piuttosto nel caso di Marghera mi pare di capire se si è lasciato che diciamo l'imprenditoria privata si stia appunto un po' spezzettando il vario territorio e quindi fare affidamento all'imprenditoria privata per sviluppare altre attività produttive. Però mi pare una politica abbastanza miope e come dire priva di una politica industriale che dovrebbe essere fatta da un governo o da uno Stato.